Tanti gli appuntamenti in programma in questo mese di dicembre che riportano l'attenzione sui comuni riuniti sotto il segno della Fiera della Croce ed inseriti nel progetto turistico e di eventi finanziato dalla Regione Campania. Le attività della 51esima edizione con la direzione artistica per il secondo anno consecutivo a cura del maestro Lillo De Marco sono iniziate il 31 agosto e si protrarranno fino al 16 maggio 2020. L'atteso programma di dicembre è un mix di attività artistiche e culinarie previsti cinque appuntamenti. Il 21 dicembre a Valle dell'Angelo va di scena il weekend al borgo con la rappresentazione teatrale sulla dieta mediterranea Ansel Kiss e la ricetta dei cento anni a cura degli artisti cilentani associati. Il 22 aperito lo spettacolo teatrale di Sala Falanca Natale in casa di donne. Il 26 a Campora la compagnia teatrale Cento Crammatini Russi mette in scena la commedia in dialetto cilentano. Non c'è fatia e noi ne lamentamo. Il 29 ancora aperito la serata di musica popolare dei Lanternina Folk. Infine il 30 chiude piano vetrale con il concerto del pianista Federico Mauro Marcucci Perito. Con questi cinque appuntamenti si ripercorre un viaggio attraverso gli itinerari che nei secoli ha rappresentato il crocevia della fiera alla scoperta del patrimonio esistente attraverso la promozione di tradizioni e la cultura del territorio. Valorizzare il proprio territorio facendo leva sulla connotazione delle località interessate dove storia, patrimonio naturalistico, ambientale e tradizione costituiscono gli elementi principali di attrazione e di sviluppo. In primavera gli spettacoli in programma si uniranno gli appuntamenti con il turismo green e percorsi creati dall'associazione Off Limits che uniscono i comuni di Orria Perito, Gioia e Stio. Sei comuni che si sono messi assieme per valorizzare partendo dalla millenaria fiera della croce di Stio perché è un momento importante di identità culturale dell'intero territorio, non solo di Stio e quindi abbiamo voluto attraverso il cavofila Gioi, abbiamo voluto fare in modo che i territori si uniscono proprio nello spirito di far sistema e nello spirito di stare a SIR e quindi a dicembre si conclude questi eventi finanziati dal POC Campania per fare in modo che questo territorio possa farsi conoscere fuori dagli steccati delle nostre aree interne valorizzando l'identità culturale che ci contraddistingue in ognuno di noi ma portando avanti un unico obiettivo quello di parlare di Cilento, di parlare di aree interne, di parlare di sviluppo.